Ciao a tutti, siamo Ilenia e Mara Maionchi, beh direi che insomma si riconosce e siamo qui in rappresentanza di Radio 105 per invitarvi ad un evento veramente molto importante al quale noi teniamo tantissimo, si chiama Lotto per l'amore e si svolgerà l'8 di settembre al Palabanco di Brescia, noi ci saremo, Mara che cosa succederà? Beh succederà di tutto, ospiti, musica, Lazio e Frizzi, adesso non so non mi viene altro, oltretutto io per Time to Love ho fatto una tappa della Mille Miglia che veniva fatta anche questa per beneficenza, ha fatto Bergamo Brescia andando su una rossosa macchina degli anni 55, molto bella, mi sono divertita, mi hanno dovuto tirare fuori col caro attrezzi ma per il resto è andato tutto bene, è andato tutto bene Mara sei qui a parlarcene, sei vive e vegeta, quindi sosteniamo anche noi Time to Love e quindi partecipiamo a questa serata assolutamente di beneficenza per aiutare i bambini cardiopatici, di tutto il mondo, io Lotto per l'amore, tu? Anch'io, perché cosa vuoi che lotti? Fatelo anche voi, vi aspettiamo.